Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai. Io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Come oramai da tradizione anche quest'anno dedichiamo l'ultimo video dell'anno a una lezione di storia. Oramai abbiamo visto la nascita della 3.0, la sua fine, la sua evoluzione in 3.5 e adesso è il momento di parlare di quello che è successo dopo. Però prima di andare avanti una comunicazione di servizio prima di dimenticarmene. Alcuni di voi mi hanno chiesto se era possibile avere i testi dei video per non dover avanti indietro a cercarsi ogni volta dove dico le cose che vi interessano all'interno dei video stessi. Diciamo che per ora in fase sperimentale pubblicherò il testo di questo video sul blog di Passioni Digitali che è una rivista online con cui collaboro. Vediamo come va, vi metto il link sotto in descrizione. Se vedo che poi la cosa va bene magari poi col tempo inserirò anche tutti gli altri video. Tornando a noi, D&D 3.5 è stato l'ultimo Dungeons & Dragons ad applicare il sistema, l'SRD 3.X al suo gioco. Ma non è stato sicuramente l'ultimo gioco fantasy ad applicare né il 3.X né il 3.5 nello specifico. Anzi, sono venuti molti altri giochi. Uno in particolare ha poi soppiantato tutti gli altri e mentre la wizard stava facendo passare il suo Dungeons & Dragons dalla 3.5 a quello che poi è stato il motore della quarta edizione, un'altra ditta stava facendo un nuovo gioco su una nuova proprietà intellettuale che invece si rimandava direttamente alla 3.5. Stiamo ovviamente parlando della Paizo e del suo Pathfinder. Correva l'anno 2008 e per quelli abbastanza vecchi di aver raggiunto l'età della ragione e essersi fatto l'illusione di avere un'idea di come funzionano le cose del mondo, il tutto stava molto rapidamente andando a gambe all'aria. Il senatore Barack Obama veniva eletto negli Stati Uniti il 44esimo presidente con una campagna elettorale dai toni fin troppo socialisti per quello che l'elettorato medio americano era abituato. Ovviamente capirete che questo fu l'unico motivo per cui alla gente sembro strano che fosse stato eletto. La banca Lehman Brothers falliva facendo scopiare la bolla economica che ha causato una crisi del mercato azionario a catena iniziando un processo di crisi che ci portiamo avanti tutt'oggi. Con un presidente degli Stati Uniti eletto promuovendo sanità pubblica e sussistenza sociale per le casi più povere e l'economia occidentale che dimostrava da sola di essere pericolosamente instabile, Fidel Castro si trovava improvvisamente senza niente da dire e decideva quindi di andare in pensione. C'è stato anche la produzione delle VHS che per quelli troppo giovani tra voi perché sono nati dopo il 90 sono come le pennette USB ma degli antichi romani. Il mondo del gioco di ruolo veniva spaccato in due dall'uscita della quarta edizione di Dungeons & Dragons che abbandonava il motore 3.5 per un nuovo sistema di gioco considerato molto più srapido e snello nella sua esecuzione. Però questo diede fastidio a molte persone, un po' perché era la prima edizione di D&D in otto anni a non usare la 3.5 a cui la gente ormai si era abituata, un po' perché il nuovo sistema per quanto più rapido era fin troppo orientato al combattimento per un gioco di ruolo e sicuramente non era rodato come il combattimento precedente. Inutile dire che c'era un'intera generazione che dopo otto anni era letteralmente cresciuta con la 3.5 e a cui l'idea di spostarsi sul nuovo gioco non piaceva affatto, anche se contemporaneamente altra gente della stessa generazione non vedeva l'ora di passare a un nuovo sistema e sperimentare cose nuove. Se però per i giocatori passare da un'edizione all'altra era una questione di gusto personale e aveva generato delle diatribe filosofiche fondamentalmente, per le case editrici che lavoravano nel settore la questione era molto diversa. Doversi spostare sulla nuova edizione voleva dire delle spese e delle potenziali perdite economiche che erano molto difficili da mettere a budget in un momento come quello in cui era appena cominciata la crisi economica e non se ne vedeva assolutamente la fine. Ad aggravare il tutto si metteva anche la wizard stessa. Come abbiamo visto nel video sulla terza edizione, vi metto il link qua da qualche parte, la wizard aveva distribuito il sistema di gioco come regolamento libero con la OLG e l'SRD 3.0 era fondamentalmente liberalmente riutilizzabile. Quando al Gen Con 2007 era stato dato l'annuncio dell'uscita della quarta edizione, la wizard aveva ribadito che sarebbe uscita una nuova SRD per poter pubblicare materiale con il trademark Dungeons & Dragons anche per gli editori di terze parti per la quarta edizione. Il fatto è che a più di un anno dall'annuncio la wizard non aveva ancora pubblicato nulla di scritto su come questa SRD avrebbe dovuto essere gestita senza contare che nella precedente edizione la wizard non aveva un comportamento particolarmente responsabile con la gestione della propria OLG. Prima c'è stato il passaggio repentino dalla 3.0 alla 3.5 e quello aveva già causato i problemi delle case editrici e adesso nonostante il gioco fosse già annunciato e quindi molto probabilmente tutto il materiale fosse già pronto continuava a far aspettare le case editrici senza dare loro nuove notizie e tra i licenziatari di terze parti che aspettavano con ansia di sapere cosa sarebbe stato delle licenze di pubblicazioni per i prodotti di terze parti c'era anche la Paizo Publishing inizialmente fondata per occuparsi della pubblicazione e della distribuzione delle due riviste gemelle della wizard la rivista Dragon e la rivista Dungeons probabilmente qualcuno di voi se ricorda ancora la Paizo dal 2002 aveva cominciato anche a pubblicare una propria linea di prodotti basata sui moduli d'avventura la loro strategia era quella di pubblicare delle serie di sei moduli collegati in quelli che poi sono stati chiamati e sono chiamati tuttora gli adventure path che portassero il gruppo di personaggi dal livello 1 fino al livello 20 per evitare i problemi editoriali e problemi di pubblicazione che si hanno già visti col passaggio tra 3.0 e 3.5 la wizard avrà deciso di pubblicare tutto il proprio materiale sotto la olg la open gaming license e non come trademark srd 3.5 nonostante tutto il materiale fosse esplicitamente pensato appositamente per Dungeons & Dragons col tempo la Paizo attorno a questi moduli d'avventura aveva anche creato una propria ambientazione il golarion e aveva organizzato una serie di tornei a livello mondiali sotto l'aggregatore della Pathfinder Society che era appunto il gruppo che si dedicava dell'organizzazione della pubblicizzazione di questi eventi vista l'indecisione della wizard nel dichiarare come avrebbe voluto gestire le srd per la quarta edizione e forti anche del fatto che il loro materiale era già stato pubblicato come olg la Paizo decise di non stare ad aspettare e procedere con la pubblicazione di un proprio gioco di ruolo basato sull' srd 3.5 fruttando quelle che hanno già le loro proprietà intellettuali la scrittura del regolamento vero e proprio venne affidata a jason bullman un altro veterano nell'industria dei giochi di ruolo che era stato il l'editore capo di dragon quando veniva pubblicato alla Paizo in realtà fu proprio lo stesso bullman ad insistere perché la Paizo si staccasse dal trademark della wizard e producesse un proprio regolamento usando come base una modifica al regolamento della 3.5 che aveva sviluppato lui in forma privata nel giro di poche settimane la versione di bullman se così vogliamo chiamarla venne riorganizzata e preparata per la stampa l'edizione era effettivamente migliore andava a risolvere molte delle controversie storiche che la 3.5 si portava dietro una per tutte la gestione delle prove di lotta ma anche un bilanciamento migliore tra le classi e soprattutto sparivano i livelli morti a nessun livello il personaggio guadagnava semplicemente dei bonus fissi ma ogni livello aveva delle nuove abilità questa prima versione venne resa liberamente scaricabile da internet sotto l'oramai storico nome di pathfinder roleplay game alpha test one e ne venne presentata anche una copia stampata cartacea acquistabile al gen con 2008 questo sistema di play test libero non si era mai visto nell'industria per un gioco con la portata che pathfinder si prefiggeva ad avere all'epoca fu il più grande play test mai organizzato e rimane tutt'oggi uno dei più grandi play test mai organizzati tra l'altro questo sistema permise alla paizo non solo di abbattere i costi perché tutto il lavoro di play test fondamentalmente era fatto di base volontaria ma anche di accorciare notevolmente i tempi vista la quantità enorme letteralmente decine di migliaia di play tester all'opera grazie al taglio dei costi al taglio dei tempi la paizo riuscì a preparare per la pubblicazione suo pathfinder roleplay game in tempi record e nel giro di un anno al gen con 2009 il gioco fu già presentato per la vendita vendita che avvenne in contemporanea con il lancio della quarta edizione idnd la campagna promozionale originale puntò tantissimo su questo fatto pathfinder venne presentato sì come un nuovo gioco di ruolo in una nuova proprietà intellettuale ma venne fatto chiaramente capire al pubblico che non si trattava di un nuovo regolamento ma di una versione riveduta e corretta della 3.5 fu definito dnd 3.75 e per mantenere il parallelo col suo predecessore spirituale anche pathfinder pubblicò su internet la propria srd la prd il pathfinder reference document e a differenza dell srd di dungeons and dragon che non era più stata toccata dopo essere stata pubblicata nonostante il regolamento avesse ricevuto delle correzioni la prd di pathfinder viene costantemente modificata e aggiornata per stare dietro alle correzioni che vengono fatte al risvolamento ufficiale la campagna promozionale ebbe comunque un enorme successo per il 2010 pathfinder aveva eguagliato le vendite di dungeons and dragon e nel 2012 per la prima volta nella storia un gioco aveva superato dungeons and dragon come volume di vendita totale sul mercato dei giochi di ruolo c'è da dire però che sì sicuramente pathfinder è un ottimo gioco ma questo non è tanto un merito di pathfinder quanto un demerito della quarta edizione che ha avuto una ricezione pessima da parte del pubblico la paizo rimase anche molto legata alle proprie origini per quanto riguarda le proprie pubblicazioni a differenza di dungeons and dragon per cui esistono in realtà decine di ambientazioni che vengono costantemente rinnovate o ne vengono inserite nuove o riproposte di vecchie per pathfinder esiste un'unica ambientazione che è il golarion quella in cui venivano ambientati i tornei della pathfinder society ma all'interno di questa ambientazione vengono costantemente prodotti nuovi moduli d'avventura organizzati in saghe che sono gli adventure path che ricalcano lo stile anche lo schema diviso in sei moduli degli adventure path originali pubblicati dalla paizo negli anni 2000 e se la tradizione di pathfinder è partita praticamente nel 2008 con la pubblicazione del primo alpha test oramai sono passati 10 anni ed essendo passati 10 anni dall'edizione originale di pathfinder anche per lui è arrivato il momento di svecchiarsi e molto probabilmente migliorarsi infatti è già stata rilasciata la versione beta del regolamento per pathfinder 2 e tra l'altro chi era lucca ha anche potuto acquistare la versione cartacea che come nel caso del playtest originale è stata stampata tradotta e distribuita è quasi sicuro che continuando di questo passo l'edizione nuova la seconda edizione sarà pronta per l'estate prossima in contemporanea con l'effettivo diecimo anno di vita del gioco ma questa è un'altra storia e con la fine della storia di pathfinder finisce anche questo video che sarà l'ultimo video dell'anno come l'ho già detto per chi fosse interessato può trovare il testo sul blog di passioni digitali il link lo trovate in descrizioni tra l'altro potete anche fare l'esperimento su quanto sia diverso quello che effettivamente dico rispetto al testo che scrivo perché io non ho assolutamente memoria fatemi sapere cosa ne pensate dell'iniziativa tra l'altro fatemi sapere cosa ne pensate voi di pathfinder se ci giocate se passerete la prossima edizione se resterete ancorati alla prima edizione se avete domande e dubbio perplessità scrivetemi tutto nell'area dei commenti qui sotto come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video schiacciate sul tasto della campanella e attivate le notificazioni io sono il master kai noi ci vediamo al prossimo video